Napoli Mia Studio 5 Germany dà la possibilità a qualsiasi artista di qualsiasi ramo musicale o cabarettista o comico di esibirsi sul nostro canale Napoli Mia visibile su Sky al canale 920 inoltre dà spazio a chiunque volesse pubblicizzare un'attività commerciale ma c'è una novità per chiunque volesse incidere un disco potete anche rivolgervi a noi che siano arrangiamenti di canzoni inedite e non stampaggio, registrazione vocale o mixaggio vi offriamo la nostra disposizione per incidere il vostro progetto con l'aggiunta anche di un book fotografico il tutto viene affidato a persone altamente qualificate nel genere per info contattateci al 06241 9725 884 fax 06241 9725 288 Napoli Mia Studio 5 Germany vi aspettiamo! no 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 Autore dei sorrisi